Chi è Paolo Meola? Ah sì, Paolo Meola, sì, l'ho conosciuto al Collegio di Milano, un bravissimo ragazzo. Sin dal primo momento mi ha colpito per la sua perspicacia, acutezza, disponibilità verso gli altri. Era veramente in gamba. Perché dargli una mano? Beh, perché lui si è sempre fatto in quattro per tutti quanti, adesso che c'è l'opportunità sarà bello poter ricambiare il favore. Inoltre l'ho sempre visto veramente disponibile verso tutti senza mai chiedere nulla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.